Buonasera, ben trovati con informazioni di Arezzo TV, cominciamo con la cronaca, è stato ricoerato e operato in prognosi riservata in codice 3 all'ospedale di Scott di Siena, un operaio che ieri è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro. L'uomo, un cinquantenne campano, si trovava all'interno di un'azienda di Sansepolcro specializzata nella lavorazione dell'acciaio nel campo dell'edilizia, quando poco dopo le 17, durante l'utilizzo di un macchinario attaccato al soffitto che serve per spostare carichi pesanti, è stato colpito al volto da un gancio di metallo che gli ha procurato un trauma facciale, ferite profonde. Sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza infermitrizzata della Croce Rossa di Sansepolcro e le forze dell'ordine. È stato allertato anche il servizio di prevenzione e igiene sulla sicurezza nei luoghi di lavoro della Valtiberina. L'uomo è stato trasportato in codice 3 all'Escote di Siena dove è stato sottoposto a un intervento. L'uomo non è in pericolo di vita. E parliamo invece di una colonna di fumo che si è elevata ieri pomeriggio intorno alle ore 19 nella nostra città. Ieri sera a causa di un incendio in un capannone agricolo nella zona di via del Gavardello. Si ipotizza un cortocircuito. Fortunatamente non ci sono feriti. Chiara Sadotti. Mia madre si accorta con la mia sorella. Hanno detto, la mia sorella ha fatto mamma piglia fuoco tutto. La mia mamma mi chiama tutta terrorizzata. Scendi giù che piglia fuoco il capannone. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio. Attorno alle 19 di martedì sera si è alzata una densa colonna di fumo dalla zona del Gavardello. Numerose le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per domare il rogo. Le fiamme hanno interessato un capannone abbandonato dove all'interno c'erano delle attrezzature agricole. Si presume che sia un cortocircuito. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto con 7 unità e 3 mezzi hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'aria. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato e la polizia municipale di Arezzo. Tragedia sporata durante un allenamento di basket. Un 17enne è stato colpito da malore. Il giovane è stato defebbrillato e rianimato dagli allenatori della scuola basket Arezzo. sentiamo i dirigenti che sono intervenuti. Siamo con Mauro Casteri, presidente della scuola basket Arezzo. Federico Fracassi, dirigente. Allora, che cosa è successo ieri, Federico? Ma, dunque, è stato un fatto ovviamente inusuale. Purtroppo abbiamo avuto un ragazzo che durante l'amichevole della nostra scuola del 19 si è sentito male. Grazie all'intervento rapido dei due allenatori, proseguito sia il nostro che quello del CMB Valdarno, si sono iniziate subito le prime cure a questo ragazzo che ovviamente apparentemente era fermo in terra senza nessun tipo di forze, di reazioni. Poi, ovviamente, siamo intervenuti anche con il defibrillatore. Il nostro allenatore ha preso la situazione sotto controllo e ha proseguito le cure. Fortunatamente è andato tutto bene, è arrivata l'ambulanza, il ragazzo è andato poi in ospedale. Però, ecco, è stata una situazione dove chi era lì presente in quel momento è stato super freddo e ha svolto tutto quello che noi ci prepariamo nei corsi. Un malore improvviso, in 17 anni, poteva essere fatale un atleta. Mauro, voi puntate molto alla sicurezza e anche alla tutela della salute perché so che fate diversi corsi. Sì, noi da tanti anni ormai cominciamo a preparare, diciamo, con i primi corsi e poi tutti gli anni ci sono gli aggiornamenti proprio per evitare queste problematiche. Lo facciamo sia, obblighiamo, diciamo così, obblighiamo gli allenatori a fare questo corso e anche qualche genitore e accompagnatore che ci dà una mano. Perché questo, noi credo, negli ultimi dieci anni, otto anni, abbiamo formato più di cento persone, proprio perché il nostro torneo Guidelli lo prevede, perché ci sono tanti campi da controllare e per noi è stata una prova importantissima questa perché intorno a questo ragazzo eravamo tre o quattro persone che sapevano usare questo DAE e la velocità del nostro allenatore Umberto Vezzosi penso che abbia fatto sì di aver salvato la vita a questo ragazzo. Bisogna avere tanto sangue freddo perché poi dall'imparare certe cose e metterle in pratica in una situazione drammatica non è facile. Esatto, è proprio questo. Infatti, questo ad esempio, io l'ho detto al nostro allenatore, la differenza fra me e te, ora io a parte che non ero in condizioni fisiche di farlo, però quando sono arrivato, diciamo, c'era proprio tutto il macchinario pronto, per fortuna la manovra è stata fatta bene, c'era una persona che faceva il massaggio cardiaco come è previsto in questi corsi. Noi l'abbiamo, essendo presidente di una società, ho sempre voluto, la responsabilità è tanta e quindi ci sembra quasi normale fare questa cosa. Lo so che delle volte è una scocciatura, so che è una spesa, però credo che questa cosa sia più importante, come ho detto qualche collega, sia più importante di vincere un campionato. Stamattina sono andato a trovare il ragazzo, il ragazzo sta bene, sta facendo i controlli e questo per noi è veramente una gioia immensa. Quindi il 118 è arrivato dopo, però ho visto che avete fatto praticamente tutto voi. Sì, ovviamente è passato del tempo prima che arrivasse l'automedica, a noi sembrava un tempo infinito, poi nella realtà non è stato così e dobbiamo ringraziare anche per la rapidità dell'intervento il 118, che da parte sua con il direttore Nocentini ci hanno fatto i complimenti per come è stata gestita questa cosa, ci hanno anche invitato a visitare la loro centrale anche per capire ancora da più vicino il ruolo che è stato fondamentale anche nel nostro caso della persona che ha risposto al telefono della nostra chiamata perché ovviamente i tempi in queste situazioni sono fondamentali e quindi è andato tutto bene per tutta una serie. Noi siamo stati bravi e freddi e insomma il 118 ha funzionato alla perfezione perché bisogna dire è andato tutto bene. E adesso parliamo di raggiri e truffe. A Castiglione Fiorentino segnalati numerosi tentativi di truffe telefoniche a lanciare un appello ai concittadini il sindaco Mario Agnelli. Chiaro Sadotti. Segnalate da più parti delle telefonate di presunti incaricati dell'ufficio tributi del comune che dovrebbero procedere a demettere dei rimborsi ai cittadini interpellati. Smentisco che queste telefonate possano essere fatte dagli uffici comunali. Lo ha comunicato anche via social il sindaco di Castiglione Fiorentino Mario Agnelli all'indomani di numerose segnalazioni arrivate ai cittadini castiglionesi che si erano insospettiti dopo aver ricevuto queste insolite telefonate. Ormai evitare le truffe telefoniche fa parte della nostra vita digitale quotidiana ha dichiarato il primo cittadino. Tuttavia alcuni raggiri per telefono non sono sempre ovvi. È quindi importante tenere il passo con le nuove truffe al telefono e imparare a identificarle. Questo perché a volte non è facile recuperare account personali o soldi rubati. L'amministrazione fa presente che le procedure amministrative di eventuali rimborsi tributari non vengono comunicate tramite telefono o email ma prevedono la predisposizione di un apposito atto amministrativo che viene notificato con raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC. Nel dubbio, conclude Mario Agnelli, per segnalazione di questo tipo invito i cittadini a rivolgersi direttamente agli uffici comunali o alla polizia municipale chiamandolo 0575 65 64 1. Cambio al vertice della prefettura di Arezzo. Il saluto di Maddalena De Luca al suo posto arriva a Clemente Di Nuzzo proveniente da Rovigo ma di origine partenopee. In servizio. Partiamo dal lato umano. Lasciare Arezzo che cosa significa? Beh, è un grande dispiacere. Lo dico proprio senza filtri, in maniera molto diretta è stato un onore immenso essere il prefetto di questa provincia e quindi la lascio con dispiacere, con commozione però con una consapevolezza di aver creato tantissimi legami a cominciare dalla collettività tante situazioni che mi resteranno nel cuore la città di Arezzo sarà per sempre un po' mia e quindi ho conosciuto, ecco, fin dall'inizio tante persone disponibili che mi hanno accolto benissimo adesso lascio tanti amici quindi questo sentimento chiaramente si accompagna sicuramente alla, diciamo, alla considerazione e al piacere per la considerazione che ha avuto il Ministro nei miei confronti nel affidarmi questo nuovo incarico che è sicuramente molto prestigioso, molto delicato però i due sentimenti chiaramente sono in contrasto perché da un lato c'è appunto la gioia di iniziare un nuovo percorso dall'altro però c'è il dispiacere sincero di lasciare Arezzo Un videocontrollo però più incisivo lo si deve alla sua... Beh, in termini molto concreti da quando sono arrivata siamo passati veramente da 0 a 100 perché c'era un sistema di videosorveglianza sicuramente superato sicuramente non funzionale e adesso invece c'è il massimo che si possa esprimere in questo settore quindi c'è una realtà completamente videosorvegliata con tecnologia di ultimissima generazione lettura targhe, individuazione appunto con dei sistemi di alert di eventuali targhe sospette per cui c'è una grande copertura del territorio Un piccolo rammarico non aver firmato quell'atto che riguarda la giostra del Saracino insomma e delle misure di sicurezza che la rendano più manifestazione e meno insomma appunto quello che abbiamo visto Beh, sicuramente sarà compito del mio successore affrontare questo argomento più a ridosso della manifestazione anche da questo punto di vista insomma ritengo di aver creato un clima di grandissima collaborazione spiace per gli episodi che ci sono stati nell'ultima competizione che nulla hanno a che fare però col mondo della giostra e quindi auspico che possano non ripetersi più ma che possano essere messe in campo delle misure sicuramente incisive per evitare che si verifichino questi episodi E con l'arrivo dell'autunno arriva anche il periodo dei raccoglitori di funghi della raccolta dei funghi dietro l'angolo ci sono molte insidie e per questo è stato attivato dal 2 settembre il servizio di controllo dei funghi raccolti ai fini della comestibilità Gli sportelli micologici dell'Asle Toscana Sud-Est sono accessibili presso l'appuntamento telefonico Tutti i raccoglitori erano pronti con i cestelli sicuri di fare un grande bottino purtroppo sono rimasti delusi perché si è bloccato tutto si è fermato con il freddo la crescita dei funghi e quindi la stagione non è ancora partita del tutto Con il drastico calo delle temperature quella che sembrava un'annata con una produzione da record per la raccolta dei funghi in Casentino ha subito una brusca frenata ci sarà così ancora un po' da attendere ma la vallata resta comunque una delle mete favorite dai cercatori di funghi Il Casentino è per i boletus per l'ovulo è la zona più ricca di raccolta sia di specie che di quantità sperando però in un autunno leggermente più caldo che si rialzino le temperature almeno nella giornata mentre nella notte non si abbassino così come si è avuto questo primo inizio di settembre I primi funghi stanno nascendo anche nelle altre vallate della provincia di Arezzo In Val Darno nel Prato Magno in Val Tiberina un po' in tutto stanno nascendo dei funghi ma non abbiamo appunto quella raccolta che con le prime piogge ci stavamo aspettando Tanti appassionati pronti a partire con la raccolta che però nasconde alcune insidie per chi non conosce bene i funghi Nella Retino con l'inizio della stagione autunnale riprende così l'attività dell'Ispettorato Micologico del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Toscana Sud-Est Un servizio di consulenza gratuita per riconoscere le specie raccolte e l'indicazione della loro commestibilità Alcuni piccoli accorgimenti che servono magari per favorire quello che è anche l'operato del Micologo in sede di Sportello sono sicuramente la modalità di trasporto del fungo quindi utilizzare dei contenitori rigidi preferibilmente areati tipo il classico cestino di raccolta il fungo deve essere assolutamente intero quindi non deve essere tagliato sminuzzato privato di parti strutturali che sono vitali per raggiungere una determinazione quanto più prossima a quella reale pulito diciamo che in buono stato di conservazione quindi dal momento della raccolta al momento dell'arrivo allo sportello magari mantenerlo in figo una temperatura insomma adatta per la conservazione e in ultimo ma non certo più importanza cercare di portare tutto quello che è la partita o raccolta o che abbiamo ricevuto anche perché all'interno della stessa partita funghi che magari sono morfologicamente similari che magari condividono lo stesso abitato di crescita o lo stesso periodo di crescita possono essere talvolta opposti di commestibilità opposta e dare anche degli imprevisti insomma che sono da scongiurare ed i numeri di riferimento per chi ha raccolto funghi e vuol farli analizzare sono i seguenti per quello che riguarda la nostra provincia 0575 255 972 oppure 055 9106 369 oppure 0575 56 84 46 o infine 0575 63 99 77 ogni lunedì, mercoledì o venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e adesso cambiamo decisamente argomento parliamo della ricorrenza degli 800 anni dalle stimate di San Francesco a Laverna perché è stata occasione per sigillare un gemellaggio tra il comune di Chiusi della Verna e quello di Assisi sentiamo Le amministrazioni comunali di Assisi e di Chiusi di Laverna sotto l'impulso delle rispettive municipalità e delle famiglie francescane indicano l'appuntamento dell'ottavo centenario come il punto di partenza per un nuovo impegno volto a far comprendere il valore di redenzione che San Francesco è riuscito a conferire alle sue ferite corporali e spirituali Assisi e Laverna assieme nell'esempio di San Francesco è stata infatti la giornata delle celebrazioni degli 800 anni dalle stimate a sancire il rapporto speciale tra questi due comuni con un gemellaggio abbiamo già tante idee e tanti progetti insieme devo dire la verità ci sentiamo un po' anche responsabili come città di Assisi di portare qui a Chiusi della Verna così come a Greccio le tante persone che arrivano ad Assisi e vogliono mettersi sulla strada sulle orme di San Francesco perché ritroviamo come oggi lo spirito originario del francescanesimo noi vogliamo essere molto vicini ad Assisi alla sindaca Proietti perché quest'anno sono gli 800 anni delle stimate ma il prossimo anno è il giubileo fra due anni è l'anniversario degli 800 anni dalla morte di San Francesco che tutti vivremo ad Assisi insieme a lei poi se con lei in altro ruolo firmeremo anche un patto di amicizia tra Toscana e Umbria io sarò molto contento in un giorno così speciale infine il comune di Firenze ha deciso di spostare proprio a Laverna la giunta programmatica ci tenevo a fare un momento di confronto di riunione di giunta un momento programmatico in un luogo che ha un significato importante nel legame che c'è sempre stato tra Firenze e Laverna basta ricordare e pensare la Pira il rapporto di La Pira con Laverna il rapporto anche di mio nonno che era Barcellini con Laverna i sindaci di Firenze hanno sempre avuto un rapporto speciale con questo luogo e sono anche quei luoghi che aiutano a confrontarsi in mezzo alla pace in mezzo alla natura e a mettere in campo quelli che sono i progetti che dobbiamo portare avanti per la nostra città e passiamo alla nostra pagina sportiva per quello che riguarda l'Arezzo calcio e attiva la prevendita dei biglietti per la partita Pontedera-Arezzo valida per la quinta giornata del campionato di Serie C per un programma sabato alle ore 20 e 45 allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera l'acquisto dei taglianti è per il settore ospite possibile online attraverso il circuito Etes www.etes.it il costo dei taglianti è di 12 euro oltre al diritto di prevendita la riduzione è a 10 euro prevista per le donne over 65 giovani fra i 15 e i 17 anni la vendita terminerà alle ore 19 di venerdì la biglietteria sarà chiusa il giorno della gara e viene raccomandato l'acquisto dei taglianti in prevendita nei punti vendita Etes più vicini ad Arezzo oppure online rimaniamo nell'ambito del calcio perché come sapete oggi giornata di lutto per il calcio italiano per la scomparsa dell'eroe delle notti magiche del mondiale del 1990 i mondiali si giocavano in Italia quell'anno e l'eroe è Totò Schillaci il bomber siciliano prima di arrivare in serie A aveva incrociato l'Arezzo in serie B nelle annate 86-87 e 87-88 con quattro partite proprio contro l'Arezzo nel 1986 al comunale finì 1-1 nella partita di ritorno a cui si riferiscono le nostre immagini i giallorossi vinsero a Messina quindi sul proprio campo a danni dell'Arezzo per 1-0 1-1 finì anche all'andata della stagione successiva mentre i siciliani insieme a Totò al ritorno si imposero per 2-0 Schillaci al comunale giocò anche il 3 giugno 1990 nell'amichevole Italia Cann a pochi giorni dall'esordio al mondiale Totò subentrò al 27esimo in quella partita nella ripresa a Viali una sostituzione che oggi proprio per quello che è avvenuto suscita un certo sussulto al cuore e quindi anche la perdita di Totò Schillaci parla in questo piccolo frangente anche a Retino e rimanendo sempre nel calcio ma per una circostanza un po' diversa come ogni settembre torna anche Matti per il calcio la rassegna calcistica nazionale dei centri e dipartimenti di salute mentale organizzata della Wisp giunta alla sedicesima edizione a rappresentare la Toscana due squadre di calcio set della nostra provincia sentiamo torna in scena quest'anno a Riccione dal 26 al 28 settembre la sedicesima edizione di Matti per il calcio la rassegna calcistica nazionale dei centri e dipartimenti di salute mentale organizzata dalla Wisp allo stadio comunale della città romagnola sono attese oltre 10 squadre con giocatori e giocatrici che arriveranno dalle asle di tutta Italia composte da persone con disagio mentale medici infermieri operatori sportivi e familiari due saranno le compagini a rappresentare la Toscana entrambe provenienti dalla provincia di Arezzo piazza Coraglia Arcadia di Terra Nuova Bracciolini e Pionta Arezzo APS squadra afferente direttamente al dipartimento salute mentale dell'asla retina le partite inizieranno nel pomeriggio da giovedì 26 settembre si concluderanno la mattina di sabato 28 quando si terranno le partite finali e le premiazioni la manifestazione ha un forte radicamento territoriale osserva in una nota a Tiziano Pesce presidente nazionale WISP ed è frutto della collaborazione tra ASL personale medico e operatori sportivi quest'anno c'è una dedica speciale da riservare allo psichiatra Franco Basaglia nel centenario della nascita il primo a capire che le malattie mentali non hanno soltanto bisogno di cure ma anche del rapporto umano e sociale che si crea con il contesto circostante a cominciare dalle strutture e dai medici Arcadia e Pionta non sono nuove a questa manifestazione e come lo scorso anno tenteranno di tenere alto il nome della Toscana ed in particolare del Val d'Arno e di Arezzo Per tale circostanza il Pionta Rezzo ha realizzato un ino ufficiale con tanto di video che vi stiamo mostrando in queste immagini ragazzi speciali che da oltre 20 anni combattono lo stigma e la malattia attraverso lo sport e rimanendo in ambito WISP a livello locale invece il comitato territoriale WISP di Arezzo riparte domenica prossima 22 settembre con una delle sue manifestazioni più riuscite vivere lo sport Arezzo Abilia l'evento si svolgerà nella consueta location del Parco Pertini di Arezzo e avrà lo scopo di promuovere rendere visibile coinvolgere le persone con disabilità e le associazioni che operano nel territorio aretino in una giornata all'insegna dell'inclusione della solidarietà la manifestazione è una delle più longeve e messe in atto dalla WISP di Arezzo in collaborazione con il CONI una giornata in cui sono rappresentati i vari sport a cui aderiscono molte associazioni e la manifestazione si protrarrà per tutto il corso della giornata di domenica questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguito a voi tutti buona serata con i programmi di Arezzo TV Grazie a tutti